Una riunione di commissione accesa e partecipata sulla villa comunale si è tenuta questa mattina presieduta dal consigliere Marco Gaudini alla presenza del vicesindaco con delega all'ambiente Raffaele del Giudice. L'incontro è servito a fare il punto sullo stato degli interventi relativi al verde pubblico, fornire quindi risposte alla cittadinanza sulle condizioni in cui verse il grande parco cittadino. Ai rappresentanti delle diverse associazioni presenti che lamentano degrado e abbandono il vicesindaco ha spiegato la programmazione in atto per la piantumazione delle essenze arborie, la sostituzione del terreno esausto ed ha illustrato le opere già completate di sostituzione delle panchine in ferro e di ripristino dell'impianto di irrigazione. È stata un'occasione importantissima perché abbiamo fatto un'operazione verità, abbiamo portato i documenti, il piano di azione sulla villa comunale con tutti gli interventi di ripiantumazione degli alberi. Molte notizie scritte purtroppo dalla stampa perché male informate le abbiamo smentite e ovviamente ci saranno anche delle altre riunioni per vedere e dichiarire. C'è un programma di manutenzione, c'è un programma anche per quanto riguarda la sostituzione della pavimentazione con la sovrintendenza, c'è un contatto molto collaborativo e siamo soprattutto in dirittura d'arrivo per quanto riguarda poi finalmente la ripiantumazione totale di tutti gli alberi. Noi ne abbiamo già fatti una ottantina. Nessun albero tolto dai cantieri è stato distrutto, sono stati tutti messi in ricovero e riposizionati. Solo nell'ultimo periodo, ha spiegato il vice sindaco, l'amministrazione cittadina ha effettuato 380 interventi di potatura, un lavoro non semplice se si considera il numero ridotto e l'età avanzata della forza lavoro disponibile. Si procede gradualmente anche alla sostituzione della pavimentazione in tufo di concerto con la sovrintendenza che sulla villa comunale, bene tutelato dall'UNESCO, esprime pareri vincolanti. Abbiamo sistemato i giochini, un appello ai cittadini a non vandalizzarli e soprattutto abbiamo ripristinato tutti gli impianti trauli, abbiamo ripristinato le aiule, abbiamo ripristinato le fontanine, abbiamo ripristinato i servizi, abbiamo fatto anche delle potature particolari e abbiamo evitato la capitozzatura che tutti si lamentavano negli anni passati. Rifatte le 187 panchine, adesso passiamo alle aree di cantiere che insieme agli altri assessori stiamo cercando di compulsare la fine di quei lavori.